Aragno è una delle tante frazioni del Comune dell'Aquila, una di quelle più in alto. Dal sisma in poi non ha più una chiesa perché l'unica presente è inagibile, seppur con danni non eccessivamente gravi e non è stata ancora ristrutturata. Il Comune ha segnato una stanza di pochi metri per le celebrazioni religiose, ma la gente preferisce non andare perché troppo piccola, soprattutto ora in tempo di pandemia dove è impossibile mantenere il distanziamento. Il centro anziani è ancora chiuso per Covid, nella frazione non c'è nulla o quasi. Le poche cose che si fanno per l'esclusiva buona volontà degli abitanti. Non c'è un bar, da tantissimo tempo non c'è neanche la scuola. Si sa però quanto sia importante avere un ritrovo per le piccole comunità, abituate ad avere presidi identitari e la chiesa è uno di questi. Chiediamo o che riparano la chiesa che non è grave, perché la dice fuori alla piazza della chiesa la messa. L'estate che è caldo, l'inverno 4-5 persone ci vanno qua e lassù non ci faccio nessuno. E la gente si lamenta, maggiormente a me lo dicono, ma vedi un po', vedi un po' che c'è da fare. Ma siamo andati perfino al Vescovo e il Vescovo non ci riceve, il segretario o alcun altro. Succede che ci stanno dei funerali, si devono fermare a San Ciacamo, a Camarda o a quelle Brigioni. Da fare un battesimo, la stessa cosa, a Ragno non si può fare niente. I cittadini chiedono che si risolva questa problematica perché giustamente gli abitanti ritengono di avere gli stessi diritti degli altri e si dicono pronti a protestare ancora e ad azioni eclatanti se non si dovesse trovare una via. Si rivolgono direttamente al Vescovo. Il rischio è di vedere queste comunità ancora più disgregate, senza luogo di comunione e ancora in difficoltà a 12 anni dal sisma. Se non ci rispondono, non ci dicono i motivi perché siamo pronti per andare al Vescovo, direttamente al Vescovo, di fare una manifestazione e andare al Vescovo.